konichiwa benvenuti a tutti quanti voi qui nel mio canale sono come sempre giappogamer benvenuti qui su final fantasy 7 remake per portare avanti questo mio gioco gioco di ruolo giapponese veramente epico allora cari giapponersi andiamo subito a vedere cosa succede in questo nuovo episodio quest'oggi siamo giunti esattamente il numero 56 della serie mamma mia mamma mia e allora andiamo subito a vedere che succede questo nuovo appuntamento e questo nuovo episodio quest'oggi di final fantasy 7 remake ok bene eccoci qui dove siamo trovati l'ultimo episodio allora vediamo un po dove andare che fare no ok ok no tocca salire scusate ok entriamo qua dentro va cucù c'è nessuno c'è qualche fantasma qua dentro mamma mia che ci sta qua il primo mackintosh porca la miseria oh ma che è c'è qualcuno qua che vuole fare lo spiritoso ma è pieno di primi mackintosh qua ma che è si sembra sembra il primo apple l'apple 2 vabbè vediamo un po' allora usciamo per di qua la porta si è aperta bene qui si possono spaccare ok si c'è nessuno che svolazza qua vediamo un po' forse per di qua no ma qua poi siamo già passati gazzarola eh per forza caolo no allora non è per di qua cavolo mamma mia che caspita di labirinto però di qua no di qua pure mi sa ci siamo già passati cavolo no aspettate un attimo vediamo un po' dov'è che dice lì l'obiettivo ah eccolo qua un ombre nella sala di controllo e calla e calla e calla porca mi sa diventano horror porca puttana ma che è che è che svolazza oh porca miseria eeeh che dè oh eris ma che caspita è ma chi è mi dico che è lo mio della michelin eh quelli di ghostbuster eh non me lo dite eh la porca puttana ma dio santo quanto sei brutto dai e cloud già esatto vai ragazze coraggio il ghast è back di questo qua ghast col potace è back di questo qua ma va che sta in tensione ma che sta in tensione vai magia ignis ghast dai ragazze coraggio attacchiamolo dai che sta in tensione tacci tua ma come sei immune abilità vediamo un po' lesione estremante ghast disciata la grande cavolo e fatti beccare cazzarola no 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 e beccare di questo qua tacci tua tacci tua bastardo ma si vabbè ma tu cazzo lavori è l'ikea ma che ma che che sposti alla roba mortacci tua lamento ultraterreno magie vai ignis ghast e beccare di questo dai coraggio tifa coraggio coraggio ragazze dai che sta in tensione bastardone vabbè stai allora un'altra magia ignis beccare di questo qua vai costremo vai attacchiamolo in massa vai abilità al limite colpo incrociato no oh cazzarola ancora con sta cosa con questi oggetti volanti mamma mia quanto sei brutto che fai dancazzi che fai schioppi che cazzo dia fai occhio mamma mia occhio ragazze vai colpo incrociato eeeh che caspita allora vediamo un po' oggetti gran pozione ma chi si può dare pure a ghast che caspita è scusate perché lo della gran pozione al ghast grazie allora che ci attacca ma perché tacci tua e no e no e no e no tacci tua dove stai vai magia ignis ghast vai solo con le magie tacci tua vai che stai in tensione dai che stai in tensione sto bastardo ancora con ste cose porca la miseria sto spostamento di oggetti vai magia ignis no cazzarola ci ha attaccato bastardo vai così occhio occhio ancora un'altra magia ancora ignis tacci tua bastardo eeeh si è l'allero e che coraggio ragazze coraggio vai becca di quest'altro no cazzarola no 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 acci tua bastardo maledetto eh tocca temporeggiare un attimino occhio ragazzi occhio eh occhio al bastardone questo era una boss fight vai ignis oh cazzarola e beccalo eh che caspita no cazzarola eh si meno 25 occhio ragazzi occhio questo è un bastardone eh liscio ah cazzarola eeeh colpo incrociato oggetti gran pozione a noi porca mi si era appena in tempo presa dove stai ma dove stai bastardone braccio fantasma abilità al limite proviamoci colpo incrociato inefficace porca no no ci ho preso no no bastardo maledetto vai grande tifa vai tifa grandissima tifa no cazzarola ancora costolamento ultraterreno bastardo allora oggetti un'altra gran pozione va eeeh che caspita vai magia ignis vai becca di questo qui eeeh qualcosa ti farò cazzarola vai di stremo eh che caspita vai ragazzi attaccate attaccate così così di cattiveria di giustezza ancora vai che manca poco vai che manca poco si iattah iattah eris si rivello bene così mamma mia eh eh certo doveva trovare noi aspettava noi no è ritornata la luce ma ok ok vagone sospeso vento principale mamma mia mamma mia e dov'è per eeeh andiamo un po' se perdi qua ok sembrerebbe di si no qua no eh non esce più già il labirinto del kaiser eh mamma mia che ufficio ma che ok qua eramo già passati in precedenza ok buoni tutti vai così teniamo premuto ok ok eeeh yokata yokata oh itemio itemio proviamo verso l'uscita oh verso l'uscita però vedo qua che bestiaccia la no non è per di qua no 30 metri verso l'uscita abbiamo un po' di qua vediamo un po' vediamo un po' ok bene 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 qua no allora ok ok di qua di qua bene bene ok c'è qualche bestiaccia mamma Vediamo un po' di qua, no 118, 113, 107 Ah, forse di qua? No Qua, no Ma porca la miseria che caspe, il labirinto del Kaiser Ma vediamo un po', vediamo un po', ma che caspita Vediamo un po', qua c'è lo spiritello Vediamo un po' di nebbietta alla Silent Hill che non guasta mai Ok, mamma mia, mamma mia Mamma mia, iata Che c'è, eh? Corre? Ah, il disegno di un fantasma triste Ah, una bambina, cavolo Oddio Porca la miseria, ecco la bambina Ehm, vediamo Ehm... Ehm... Vitty lì... Vitty... Vittà... Ehm... Vittà... Vittà... È vicino... Porca la miseria Ma qua ci si può sedere? Ah, ok, bene, ok Allora, bene così, bene così, mamma mia ragazzi, che episodio, che boss fight, mamma mia, ottimo così, bene così E allora, cari Giapponeverse, eccoci qua nella schermata, nel menu principale di questo Final Fantasy VII Remake E allora, cari Giapponeverse, anche questo episodio numero 56 della serie termina qui Sperando che vi sia piaciuto, invito a lasciarvi in più like possibili Commentate, condividete con i vostri amici minchi per far conoscere Giappone Gamer lungo e largo Seguitemi i miei vari social Ripeto, come sempre, essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram Vi invito anche a iscrivervi al canale Mi raccomando, attivate la campanella per rimanere semplicemente a giornare i miei vari video Episodi su gaming giapponese a 300 gradi, a volte anche non Che escono quotidianamente E ovviamente vi invito anche a seguirmi sul mio blog Sulla mio blog personale, su WordPress Che puoi raggiungere il link giappogamer.home.blog Dove scrivo tanto in tanto news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine sul canale E allora, cari Giapponeverse, vi ringrazio uno a uno per esserati fin qui E al vostro Giappone Gamer, per il momento è tutto Matane! E ai prossimi episodi! E ai prossimi episodi!